segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te sui balneari che ed ho un consiglio al bravo al bravo nobili per il terzo polo cioè di riprendere in mano la bandiera della liberalizzazione liberalizzazioni che purtroppo insomma qui da qui qui non se ne parla dal dall'ensuolate di bersani quindi da un po da un po di tempo quindi liberalizzazioni in un paese che non dimentichiamo mai aveva la camera dei fasci e delle corporazioni c'è quindi qui prima si parlava del tema del del tema elettorale rispetto ai balneari è proprio quello che tiene che tiene legato questo paese qui cioè questo paese non puoi fare una cosa che immediatamente interviene la corporazione tra dei tali seppur piccola seppur anche oltre ininfluente ma la capacità di mettere sul piatto il famoso cashback elettorale quindi io se non mi fai questo non ti voto quindi è logico che vi sia un legame stretto un legame stretto nei partiti a non fare determinate azioni penso che una bandiera della liberalizzazione in italia debba essere fatta e debba essere portata avanti da un terzo polo che evidentemente ha le può avere le capacità e la forza di 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 uno strumento che in italia è difficile che prenda piede perché siamo strutturati proprio così insomma siamo strutturati in ordine professionali piccole corporazioni che quindi ti frenano quel provvedimento frenano quell'altro poi alla fine chiunque governa in questo paese prende in mano il volante e riesce a fare piccoli passi allora facciamo così prima della replica di